Sì, Urbino quest'anno ha la BIT da capoluogo di provincia e questo sicuramente ci ha dato tanta energia, ma quello che ho notato e ho constatato è che è stata una BIT veramente di ripresa dell'energia del turismo da parte di tutti gli operatori e di tutte le istituzioni. La Regione Marche nel suo stand ha ospitato tanti panel dove appunto era presente anche Urbino e chiaramente abbiamo anticipato tutte le mostre del 2024, quindi Paolo Volponi, Barocci e sicuramente abbiamo parlato di quella che è la nuova promozione di Urbino che è non solo patrimonio storico e culturale ma anche tutto un territorio da vivere per quanto riguarda il suo patrimonio materiale, per la qualità della vita che noi abbiamo definito in generale come ben apostrofo essere e questo è il nostro lancio della città di Urbino ma anche del territorio delle aree interne e in particolare come territorio con la più alta concentrazione del biologico e su questo tema chiaramente vuol dire un'economia sostenibile, vuol dire un territorio incontaminato e proprio alla BIT 2024 abbiamo lanciato il nostro nuovo slogan che è Bionascimento. Vogliamo proporci non solo come una città dove appunto c'è tutto questo patrimonio storico unico, appunto patrimonio di malità ma anche come una città che vuole proporsi sulle tematiche appunto che riguardano la sostenibilità, riguardano l'ambiente, riguardano in generale un'attrattività non solo per i turisti ma anche per venirci a vivere e il Bionascimento vuole riprendere appunto quella che era stato il miracolo della Corte dei Montefeltro, di questo siamo anche un po' così forse eccessivi di paragonarci a quel periodo miracoloso, però vogliamo comunque riproporre Urbino come una città che vuole essere in evidenza in un contesto nazionale che fra l'altro in questo periodo ci riconosce trainante non solo per la regione, anche quindi a livello internazionale eravamo presenti alla settimana della cucina italiana a Parigi, quindi un Urbino che vuole avere questa nuova veste. Fra l'altro a Urbino il primo marzo ci sarà un evento a livello nazionale e internazionale appunto con Destinazione Italia ma con il patrocino della regione e con il nostro patrocino sarà una serie di tavole rotonde a Collegio Raffaello ma anche a teatro ci saranno tutti gli operatori a livello nazionale e si parlerà appunto di turismo SG, cioè environment, social e government, proprio nei temi europei che porta avanti l'Europa. Sicuramente la proposta di Urbino a livello turistico è quella di avere un turismo legato appunto anche l'outdoor agli eventi sportivi, qui anche il vice sindaco Marianna Vetri ha in programma tutta una serie di eventi nazionali sulla ginnastica italiana che sicuramente vanno a riempire questi periodi di bassa stagione.